È inutile parlare ancora di tutte queste cose Ormai la nostra situazione non ha una via d'uscita Cerca un altro argomento di conversazione È inutile tentare ancora, non c'è la soluzione Ma quante volte hai già tentato e dopo hai rinunciato Cerca un altro argomento di conversazione A te sembra tanto facile ricambiare il mondo come vuoi Ricambiare come pare a te i pensieri della gente Ma per me non è così e dico non pensiamoci Che cosa vuoi pensare? Ormai conviene più lasciare le cose come stanno Cerca un altro argomento di conversazione E dici sempre che fra noi qualcosa è rimasto Io dico che cosa è rimasto Tu dici forse tutto Cerca un altro argomento di conversazione A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi Di cambiare come pare a te i pensieri della gente Ma per me non è così È inutile parlare ancora di tutte queste cose Se proprio si dovrà parlare Facciamo come dico io Cerca un altro argomento di conversazione Cerca un altro argomento di conversazione Cerca un altro argomento di conversazione Grazie.